Presidente, ho letto la lettera che ha scritto al senatore professor Mario Monti, mi pare poco prima del suo insediamento, con la quale perorava la causa meridionale. Teme forse che questo nuovo governo sia poco attento alla questione del Sud? Devo dire che è difficile che sia meno attento del governo che ci ha lasciato, perché forse, anzi certamente perché è influenzato dalla Lega che non è stato prodigo né di attenzioni né di risorse nei confronti del Sud. Però lo aspettiamo alla prova dei fatti, perché credo che in ogni caso oggi qualunque governo tecnico o di centrodestra o di centrosinistra inevitabilmente viene condizionato da quelli che sono gli interessi economici dominanti, prevalenti, forti o deboli che siano, che piaccia o non piaccia, hanno i loro interessi e le sono le prospettive collocate prevalentemente al nord. E qua emerge una nostra drammatica carenza, quella che non comprendiamo, a differenza dei settentrionali che si sono fatta una Lega, che abbiamo bisogno di una forza politica, non che spacchi l'Italia, ma che faccia valere i nostri diritti. E peraltro questi nostri diritti avremo la possibilità e la capacità di farli valere quando avremo fatto appieno il nostro dovere, perché non dimentichiamo che per avere le carte in regola dobbiamo fare ordine a casa nostra e a casa nostra, in Sicilia come nel Sud, di disordine ce n'è tanto. Possiamo aggiustare le cose e poi pretendere che ci venga dato quello che ci spetta. Quando parla di disordine, parla di disordine amministrativo o di disordine politico? Parlo di disordine amministrativo se faccio riferimento a come è andato avanti il governo di ogni regione meridionale. Uno scambio con Roma che in cambio dell'utilizzo, se non del saccheggio, di tante nostre risorse ci ha assicurato quei trasferimenti che abbiamo sperperato prevalentemente in misure clientelari che magari hanno procurato un po' di consenso ma sicuramente non hanno prodotto sviluppo. Dal punto di vista politico il disordine o comunque la carenza è quella che non ci riusciamo a dare, ad esempio in Sicilia regioni a statuto speciale, quella forza autonomista che altre piccole e grandi regioni in Italia e in Europa si sono date e che quelle regioni governano. Trentino e Val d'Aosta in Italia, vedete come io spero di incontrarlo nei prossimi giorni, anzi un appuntamento con lui. La Catalogna ha ripreso la via dell'autonomia con un presidente successore di Pugiole dello stesso partito che ha partecipato alle elezioni politiche di giorno 20, di giorno 19 e 20, rafforzando nelle corte spagnoli la rappresentanza autonomista che darà più forza ad un governo autonomista, attingendo da Madrid quelle risorse, quelle opportunità che non sono soltanto materiali o finanziarie. Nel nuovo statuto della Catalogna ci sono competenze anche in materia di giustizia civile ad esempio che hanno fatto della Catalogna una delle più potenti regioni d'Europa. Lei parla di autonomismo e mi pare di leggere anche un riferimento sostanziale al federalismo. Il federalismo è un'autonomia speciale concordata con ciascuna regione. La Lombardia oggi ha più risorse e può governare più poteri. Sicuramente nel contrattare competenze e risorse con Roma redige un suo nuovo statuto speciale. Noi stessi aggiorneremo il nostro statuto come dire se col federalismo per il quale le regioni statuto speciali come sapete grazie alla legge 42 del 2009, quella sul federalismo, hanno la potestà di discutere testa a testa col governo se acquisiremo competenze in materia di trasporti piuttosto che di scuola, piuttosto che di assistenza. Quindi sarà un'autonomia potenziata e sarà una nuova autonomia per le regioni a statuto ordinario. Io credo che, ci ho sempre creduto al federalismo, che non può essere soltanto fiscale e basato sul fotografare l'esistente. Oggi non c'è dubbio che una regione come la Calabria non può autogovernarsi, a differenza di una regione come la Lombardia. Allora diamoci un tempo definito entro il quale standardizzare i costi dei servizi certamente ma anche fare un conto sulle risorse di cui disponiamo, di cui potremmo disporre ma che non ci vengono riconosciute. Se parliamo di risorse certamente nostre, in un clima e in un sistema di federalismo fiscale pieno, la Sicilia potrà rivendicare i 10 miliardi all'anno circa che lo Stato centrale incamera come tasse provenienti dalla raffinazione del petrolio, ad esempio. Così dicasi per la Basilicata che produce petrolio anche, anche per le altre regioni. Io credo che ci siano opportunità e risorse o che non sono utilizzate, o che non vengono utilizzate da altri. Lei pensa che questo tipo di cambiamento possa essere gestito politicamente da forze come quelle che sono al momento sulla piazza? Il suo governo è un governo tecnico, quindi ampiamente precursore di quello che è stato a Roma, però con delle indicazioni politiche precise all'interno di questo governo tecnico. Il mio è stato un governo che si è formato, compresa la maggioranza che lo sostiene, su un progetto e quindi su una serie di riforme, a partire da quella della sanità che era soggetta la sanità ad un piano di rientro che abbiamo avuto il merito semplicemente di attuare. Se non avessimo puntato su dei tecnici sicuramente non avremmo realizzato queste riforme, o le avremmo realizzate con ritardo, o le avremmo realizzate parzialmente. Ha fatto bene a ricordarlo, noi abbiamo puntato su un governo di tecnici che è servito a svelenire le polemiche politiche in un'ampia maggioranza che ha sostenuto il nostro impegno e il nostro sforzo con una serie di riforme e quindi di leggi che sono poi state molto spesso approvate all'unanimità. e abbiamo dato vita ad una maggioranza che è diversa da quella che mi ha eletto presidente della regione, ma anche per Monti è stato così. Fino a qualche giorno fa si diceva che il governo Monti era una sorta di violazione delle regole della democrazia, di ribaltamento della volontà popolare. Ora credo che poi alla Camera e al Senato ha registrato il record di voti di fiducia nella storia della Repubblica. Noi ci abbiamo pensato due anni fa, la Sicilia era, e per molti versi è, ma almeno ha imboccato una strada diversa, sulla strada del fallimento, così come lo era fino a ieri il Paese, non è che oggi stia meglio, sappiamo della borsa, dello spread, quindi dei titoli di Stato eccetera, sappiamo di imprese nazionali che passano di mano acquistate dai francesi o dai tedeschi, ma mi auguro che col governo Monti si imbocchi una strada diversa, anzi si avvii una inversione di tendenza, che per riportarci ai livelli di una delle potenze industriali più importanti del pianeta ha bisogno certamente di anni e anni di lavoro. Rispetto al governo Monti però ci sono due differenze sostanziali, in primo luogo a capo del governo dei tecnici della Sicilia c'è lei, un uomo politico che ha un disegno politico, e la seconda differenza è che qui non c'è un accordo fra tutti o quasi i partiti, ma il blocco importante del centro-destra è l'opposizione. Non c'è dubbio che qua abbiamo riaggregato le forze politiche attorno ad un progetto riformista, registrandosi nei partiti che si opponevano una serie di spaccature e di lacerazioni da cui poi sono venute le forze più importanti a sostegno di questo nostro governo. Il terzo polo in anticipo, un pezzo di PDL che si è ritrovato poi attorno a Fini, il vero UDC, mentre quello che c'era è diventato PID, di cui ora si vanno perdendo le tracce, sono nate qua. In quanto veda alla maggioranza ampia, mi auguro che dopo quello che è accaduto a Roma, tenete conto che quando due anni fa noi abbiamo avviato questo processo, non era pensabile che si realizzasse una fiducia del 90%, perché allora il sistema berlusconiano era potentissimo e sferrava colpi micidiali contro questo governo e anche contro di me, se posso permettermi. Ora sono cambiate le cose, mi auguro che mettendo da parte le polemiche del passato, nel 90% delle forze politiche intervenga la responsabilità necessaria perché si vada avanti più speditamente sulla strada delle riforme, perché questo processo non conosca come dire battute d'arresto. In quanto al governo dei tecnici, al programma e al fatto che lo dirige un politico, quale io sono, non c'è governo di tecnici che non abbia un programma e un'azione amministrativa o quotidiana che non siano prettamente politici. Massimo russo piuttosto che l'assessore chinnici, Giosuè e Marino che faceva il prefetto mentre russo e chinnici facevano i magistrati, o Piraino o Centorrino che facevano 200 universitari, è chiaro che non compiano, atto amministrativo che non abbia un grande rilevo politico e quindi è chiaro che così come il governo Monti che farà una scelta in materia di infrastruttura di energie, ma anche in materia di contenimento della spesa pubblica e di investimenti, mi auguro al Sud, farà delle scelte politiche che saranno confrontate con le scelte del passato e alle quali guardiamo con l'attenzione che la politica non può non riservare all'azione di un governo innovativo come quello che ha mosso i primi passi e comincia a muovere i primi passi. In Sicilia c'è comunque una situazione abbastanza difficile all'interno del PD che è una delle forze che la sostiene, il PD ha due anime, mi pare in modo molto determinato e aperto. Ha due anime ma devo dire che nonostante il confronto interno sia stato per molti versi anche molto aspro e alcuni di loro hanno assunto posizioni strumentali, volgarmente strumentali devo dirlo, che mi auguro ripeto appartengono al passato. In fondo il PD non ha fatto mai mancare un contributo essenziale, determinante sul piano della serietà, della qualità della della proposta politica e della proposta legislativa. Oggi il confronto, ma all'interno del periodo democratico, si fa soprattutto sulle comunali di Palermo. Sgomberato il clima o il campo da possibili elezioni politiche anticipate, Palermo diventa la città più importante d'Italia nella quale si vota, oltre ad essere già di per sé stessa la quinta città d'Italia. E quindi non c'è dubbio che la scelta del candidato sindaco, l'ipotesi Borsellino con una certa maggioranza che dovrebbe sostenerla, l'impostazione che la stessa candidata sta dando sono oggetto di confronto all'interno del PD ma anche all'esterno che attraversano ovviamente tutti i partiti. Non c'è il pericolo che una posizione Borsellino contraria al terzo polo e a un accordo con il terzo polo metta in crisi anche il suo governo? Beh, è contraria alla stessa impostazione del PD. Credo che il confronto che si fa tra Borsellino e il PD in termini molto netti è proprio questo. Intende accettare l'ampia maggioranza che si è ritrovata tra il terzo polo e il PD attorno al governo della regione, che poi è fondamentale soprattutto per Palermo. Immaginiamoci una ridotta estremistica e minoritaria nella quale il candidato sindaco, la candidata sindaco si va a rifugiare che taglia i ponti con un governo nazionale e con un governo regionale senza la cui solidarietà non so come si potrebbe amministrare Palermo, soprattutto nel medio termine. Una città che è in ginocchio da tutti i punti di vista, della qualità dei servizi, dal punto di vista finanziario, per cui non si tratta di indebolire il governo, si tratta di andare incontro a un insuccesso sicuro, che io mi auguro non sia nelle prospettive di nessun candidato a sindaco, tanto meno della Borsellino. In caso contrario si faccia chiarezza, ma io credo che la chiarezza riguarderà soprattutto il rapporto tra la Borsellino e il PD, anche perché in Sicilia non si vota solo a Palermo e la scelta di Palermo non potrà che non incidere, non potrà che incidere in tutti gli altri comuni, sono circa 140 in cui si vota in Sicilia. Presidente, noi ci siamo incontrati la prima volta, otto mesi fa, più o meno nove, e io le avevo chiesto qualche cosa della naturale evoluzione, nel senso che il suo partito stava subendo una trasformazione che lei portava avanti con molto impegno e molta determinazione con l'ingresso di professori, di uomini riconosciuti, riconoscibili di cultura, insomma un cambiamento all'interno di Palermo. A che punto è questa naturale evoluzione? Io credo che nei prossimi giorni non potremo non avere un primo step importante, un primo traguardo, perché abbiamo riflettuto molto, anche se non è emerso, perché non c'è dubbio che almeno ogni fine settimana discutendo di politica, soprattutto con i giovani, ci siamo posti il tema di come deve cambiare profondamente questo partito. Questo partito non può che cambiare, adeguandosi a quella che è la realtà siciliana e meridionale in maniera particolare, che vivono una condizione drammaticamente complicata, per cui questo movimento non può che evolvere verso una formazione politica tremendamente seria, rigorosa ed esigente. Io credo che sia indispensabile, dopo questa fase di rodaggio, sono circa cinque anni, in cui ci siamo mossi con molta libertà, una libertà che ci ha quasi inebriato, la libertà dai vincoli dei partiti nazionali, che in fondo hanno sottomesso il Mezzogiorno e la Sicilia per quanto mi riguarda più direttamente, a logiche estranee ai loro interessi e ai suoi interessi. L'approdo nel senso del rigore di un partito esigente è attraverso, secondo me, ora la introduzione di una figura particolare che è quella del militante. La militanza deve essere l'anima di questo nostro movimento, nel quale per iscriversi come militanti bisogna impegnarsi sul proprio onore, a lavorare, a scendere in piazza, a lottare, a volantirare, a fare il gazebo, a fare il porta a porta, a parlare nei comizi rionali, a gestire una radio piuttosto che stampare un volantino e metterlo in circolazione, a parlare con le singole persone, perché l'autonomia, come dire, entra nella coscienza dei siciliani e nella coscienza dei siciliani non c'è. Tanto, oppure tanto labile è questo rapporto, per cui, come capita sempre, basta un mese e mezzo di campagna elettorale fatta attraverso i mass media, per cui poi il senso di un movimento del genere si perde a vantaggio dei grandi partiti nazionali, che hanno governato il paese alternativamente in questi ultimi 17 anni di cosiddetta seconda repubblica, è però una costante l'hanno avuta, quella di avere determinato un incremento del divario tra il nord e il sud. L'alternativa non è protestare contro il centrodestra votando centrosinistra e viceversa, l'alternativa è quella sperimentata in Catalogna, una forza politica autonomista che governi, ad esempio, questa regione. Ma perché questo concetto così elementare, se si guarda agli esempi fortunati, ad esempio del Trentino della Val d'Aosta, entri nella coscienza della gente, c'è bisogno di una figura, quella del militante, che non potrà riguardare centinaia di migliaia di persone, di iscritti, quelli sono i sostenitori tradizionali, ma poche migliaia di persone che siano veramente convinti del lavoro e dell'impegno che fanno, che si sottomettono alla disciplina dello statuto e delle regole di questo movimento, che diano l'esempio, che abbiano una condotta irreprensibile, che se vengono cacciati o si dimettono, per un anno almeno si impegnano a non fare politica, che se offendono il movimento e quindi tutti gli altri si impegnano a pagare i danni morali perché gli faremmo causa e che però mantengono il privilegio di avere riservato per loro l'elettorato attivo e passivo nel movimento e di esprimere tutte le candidature, da quella dei consiglieri comunali fino a quella dei deputati o dei ministri. Io credo che i 16 catalani che saranno nelle cortes, forse prima erano 10, sono uomini e donne che non cambiano partito, che non conoscono quindi il passaggio da uno schieramento all'altro, come è capitato per qualcuno dei nostri deputati in questi ultimi mesi di trasmigrazioni frenetiche, che si battono, che non dormono, che si sacrificano, che cedono una parte della loro indennità per la vita del movimento, che non attaccano sulla stampa appena la cacciata, i loro compagni di partito o di avventura, con una legione di militanti determinati e appassionati, io credo che allora si può affrontare una situazione complicata e difficile come quella dell'economia e della società siciliana e meridionale. Lei non crede al valore del partito leggero quindi? Assolutamente no. Il partito leggero è un alibi per il partito che in fondo viene formato anche a un mese dalle elezioni attraverso il messaggio televisivo, che poi entra nella testa della gente che in mancanza della vita di sezione, della gente che ti volantina un messaggio politico, della fiducia che si ha in un gruppo di militanti, vota per come un progetto politico si presenta per le suggestioni del mezzo di comunicazione. Un movimento del sud non può avere i mezzi, gli strumenti, le risorse di un grande partito nazionale che per garantire, perché garantisce gli interessi forti di grandi gruppi imprenditoriali ne riceve i vantaggi e anche i finanziamenti, tra l'altro. Non c'è dubbio che poi un partito del genere in una regione autonoma soprattutto, se entra nella coscienza della gente e produce risultati, perché non dovrebbe avere la maggioranza dei consensi, come ce l'ha in Trentino la sud di Tiroler, nonostante tanti errori compiuti da quelle classi dirigenti, o l'Union Val d'Otene in Val d'Aosta. Quando si capisce la differenza non si può votare per il grande partito nazionale la cui politica negli anni ha determinato, a proposito di risultati uguali e contrari, l'impoverimento, l'abbassamento del reddito, l'emigrazione che sono le grandi piaghe, la carenza di infrastrutture, almeno queste cose. Le infrastrutture chi le fa? Le ferrovie? L'ANAS vale autostrade? Non è che le fanno i governi regionali della Calabria piuttosto che della Sicilia. Ripeto sempre, insieme e dopo i grandi difetti, errori, vizi che devono essere corretti, ma non saranno corretti se a governare queste regioni ci saranno uomini dei partiti nazionali. Ci sono stati in questi anni, in tutte le regioni del sud e anche in Sicilia fino a ieri. Un partito nazionale ha fatto mai un processo a un suo assessore regionale, quando lo ha candidato alla Camera o lo ha fatto Ministro, se nel governare la Regione si è lasciato andare al clientelismo, all'assistenzialismo, allo sperpero. Non mi risulta. Non è mai stata fatta una selezione in base alle virtù del governo. Perché? Perché quello è stato il vizio che gli è stato consentito in cambio del fatto che i partiti nazionali hanno ottenuto il consenso e in fondo hanno determinato condizioni di impoverimento di queste regioni. Oggi noi raffiniamo il 40% e più della benzina che si raffina nel nostro Paese. Siamo una terra che è stata ricca di petrolio, forse di gas, di energia geotermica ad esempio, di grandi possibilità. Dove sono finiti i proventi di queste industrie? A finanziare, tra i capricci ad esempio qualche squadra di calcio che milita sicuramente sempre in Serie A, ma questo soltanto tra i capricci, tra gli investimenti e le risorse, grandi gruppi imprenditoriali che qua hanno lasciato poco e niente, se non un poco di lavoro, che molto spesso è stato pagato, penso alla chimica pesante, oltre che alla raffinazione, con la salute o con la vita. In questa ottica lei come vede evolvere i rapporti tra il suo movimento e i partiti nazionali? Un rapporto contrattuale, si contratta. Il mio consenso e la mia alleanza ovviamente si pagano non con la mia promozione personale, con la mia carriera politica, dico mia in genere, in generale, ma bensì con i vantaggi e le risorse che io porto al Sud. Geometrie variabili quindi? Ma è naturale questo, vai a legarsi a uno schieramento stabilmente. Noi nel 2006 e nel 2008, quando Berlusconi ha governato, eravamo con lui. Le politiche per il Sud non sono state deludenti, sono state micidiali. Gran parte dei FAS, qui si è attinto per l'Expo piuttosto che per grandi infrastrutture del Nord, non potevamo stare legati là, ma d'altronde è anche colpa nostra. Noi abbiamo avuto eletti in Sicilia 4 deputati e 2 senatori. Se ne avessimo avuti eletti 20 deputati, militanti, di quelli che non pensano neppure lontanamente di cambiare schieramento, 20 deputati e 10 senatori avremmo condizionato il governo nazionale come invece ha fatto la Lega. E questa d'altronde è la politica. Si fanno delle scelte e si orientano delle risorse in funzione a degli equilibri politici. Onestamente è un governo di unità nazionale e un governo nazionale dovrebbe guardare spontaneamente senza badare ai numeri qual è il divario tra Nord e Sud, che è il più alto che ci sia tra regioni di uno stesso Stato di tutta Europa. Non lo fa, facciamoglielo capire non con le buone ma con le cattive, ma in politica le condizioni e gli equilibri sono determinati dai numeri. I siciliani hanno preferito votare in grande maggioranza per il PDL piuttosto che ieri per il PD, eccetera. se votassero una volta per tutte come fanno i trentini o i catalani per una grande forza autonomista. Ma scusi, questa logica della contrattazione come si concilia con la sua adesione a un disegno del terzo polo? Un disegno di terzo polo quando diventerà miauro alleanza di governo non potrà non tenere in considerazione gli interessi del Sud, nel quale peraltro anche gli altri partiti del terzo polo attingono risorse elettorali non piccole. Lo stesso Udc credo che abbia una gran parte del suo consenso attinta al Sud. Io credo che l'intero terzo polo debba porsi il problema della coesione nazionale e devo dire che mi lascia ben sperare questo governo per chi ha istituito ad hoc un ministero che è della coesione territoriale. Vuol dire questo, la politica della coesione per farci valere di più in Italia e perché il Paese si faccia valere di più in Europa. Monti non ci credeva da commissario europeo. Io credo che in Europa bisogna arrivare stavolta pretendendo una svolta in materia di fiscalità di vantaggio. La politica della coesione fatta con la ricetta dei fondi strutturali, dalle nostre parti non ha funzionato granché. La fiscalità speciale per le nuove imprese o per quelle vecchie che crescono non solo funzionerà, ma funzionerà alla prova dei fatti. E la prova l'abbiamo fatta noi in Sicilia il 3 novembre, quando destinando da un bilancio ingessato e fortemente impoverito dalla riduzione dei trasferimenti, abbiamo tratto 120 milioni di euro destinati al credito d'imposta per investimento. Cioè l'investimento ottiene il contributo come credito d'imposta, paga meno tasse, ma quando avrà prodotto un fatturato e quindi rischia il suo capitale, l'impresa e rischia perché si espone con le banche. Punta sul prodotto e poi avrà lo sconto. Ebbene, col sistema che più trasparente non si può, per cui si fa domanda cliccando, dalle ore 10 di giorno 3 novembre abbiamo esaurito i 120 milioni in 20 minuti. 800 domande che hanno inghiottito i 120 milioni e ce ne vorranno fino a qualche giorno fa altri 80 circa per esaurire anche le altre. E questo è la fiscalità di vantaggio. Io rischio il mio, ma poi non pago le tasse. Stavolta è lo sconto, ma se sono grosse imprese non si pagano le tasse. Cosa perde il nostro Stato? Nulla. Perché tanto le imprese non investono se non hanno lo sconto, addirittura l'esenzione. Solo che se però investono, anche se con l'esenzione, di tasse che comunque lo Stato non percepirebbe, mettono in giro ricchezza, stipendi, mettono in movimento ovviamente i consumi e fanno risparmiare migliaia e migliaia di indennità di disoccupazione allo Stato. Per questo bisogna battersi in Europa, che fino ad oggi, come sapete, consente la fiscalità se vale per un intero Stato, non per un pezzo di Stato. Cosa dobbiamo fare? Dividerci in due, centro-nord e sud, per poter avvantaggiarci di questa fiscalità speciale, per poter avere un regime fiscale diverso, come c'era a Malta, che cresce e si sviluppa pure in un momento di grande crisi e recessione come quello che noi viviamo. Io credo che un autorevole ex commissario, oggi Presidente del Consiglio, che ha lasciato un'ottima immagine di sé in sede europea, può impostare una svolta nelle politiche europee perché il nostro governo ottenga questa misura. Questa misura? Una perequazione infrastrutturale, ovviamente di lungo termine, una ferrovia Messina-Catania-Palermo o un ponte sullo stretto, non si fanno né in sei mesi e neppure in cinque anni. Ci sono opere che si possono fare in cinque anni, altre che si possono fare in dieci e la perequazione si può raggiungere anche in venti, facendo sistematicamente ricorso, peraltro, al sistema di progetto di finanze. Il ponte sullo stretto in gran parte è progetto di finanze, la risorsa pubblica è una piccola parte. Chi parla di altre priorità mente, scusa, se io ci metto tre quarti delle risorse di tasca mia, è chiaro che scelgo io di investire sul ponte perché penso che dai pedaggi ne ricoverò un vantaggio. Non mi possono dire che la priorità sono le reti idriche, perché io sono le reti idriche dove non percepisco nulla e nessun guadagno, non investo. Quindi questo è tutto un bleff, un grande equivoco sul quale si gioca. Le autostrade, se l'ANAS, anziché col vecchio governo, tentare commissariamente, che poi sono stati rispediti al mittente dai tribunali amministrativi, facesse un discorso con noi di una sinergia, perché l'anello autostradale siciliano, con quel minimo di pedaggio, almeno per alcuni lunghi tratti, non ha senso che se io esco da una cittadina per andare a sei chilometri di distanza usando l'autostrada debba pagare, o da un ingresso all'altro di una grande città come Palermo o come Catania debba pagare, chiaramente, ma con un minimo di pedaggio si può fare un discorso per cui si trova l'imprenditore che investe in autostrade, come capita in tutte le altre parti d'Europa. Ecco, il progetto di finanza è di importanza fondamentale. Poi il progetto di finanza può essere variabile, come dire. Fai una strada che magari ti dà un utile X o per compensare il ridotto utile ti costruisci un grande albergo per il quale ti do un'autorizzazione o fai un impianto per le biomasse o per la pirolisi con cui smaltisci senza emettere veleni in atmosfera i rifiuti. Termini Imerese, come si colloca in questa visione? Termini Imerese è anche qua il segno di una svolta. Avere puntato sulla grande impresa multinazionale che oggi può delocalizzare da un momento all'altro, la Fiat ci ha preannunziato lo smobilizzo due anni fa, è sbagliato. Anche le raffinerie, quando ci saranno condizioni e ci sono già più favorevoli in Tunisia, potrà dismettere le nostre raffinerie. Sono grandi colossi nazionali o internazionali che si occupano di queste produzioni. e di risio a Termini Imerese, stavolta abbiamo rimesso, non a parole, abbiamo investito nostre risorse notevolmente, è un'impresa che avrà le dimensioni di una grande impresa sicuramente per il numero di dipendenti, per il rischio che corre, eccetera, ma che non avrà la tentazione di delocalizzare, visto che molto spesso si tratta di assemblaggio e di qualche produzione che noi ci auguriamo che cresca. Presidente, lei parla di Sud e parla di Sicilia. Il suo partito lo colloca sempre tra i siciliani. Sarà un partito del Sud o un partito siciliano? Perché c'è una differenza sostanziale. Io credo che debba essere un partito, la mia è un'utopia, un sogno sicuramente presente in tutto il mondo. Perché? Perché non c'è dubbio che questo partito deve dare l'esempio, deve dimostrare di lavorare per un nuovo Sud intanto e per una nuova Italia autenticamente unita. Un movimento autonomista per un nuovo Sud e per la nuova Italia unita. Che è partito dalla Sicilia, ma che deve radicarsi in tutto il Sud. Ma la classe dirigente deve avere la dimensione del territorio. Sono partiti regionali che hanno piena autonomia, che però hanno un denominatore comune, per cui il dirigente, io in Sicilia, così come il mio collega calabrese piuttosto che pugliese, devono credere nel partito della loro regione che ha da portare avanti un suo progetto e un suo programma. Ma il gruppo di militanti del piccolo paese avranno i loro obiettivi, che sono locali diversi ovviamente in base alle esigenze di quel piccolo comune, dalle esigenze del comune vicino. Però ci si ritrova in un denominatore comune che riguarda la regione e poi in un denominatore comune che riguarda il Sud. E che poi chiaramente non potrà che attrarre gli italiani che credono nella coesione, ma soprattutto i nostri emigrati che sono presenti in tutto il mondo, i quali si sveglieranno e cominceranno a capire che forse vale la pena di puntare, noi come sapete abbiamo il voto agli italiani all'estero, su un partito che piuttosto che fare chiacchiere potrà dimostrare concretamente che dà una mano perché migliori il Sud e migliori il Paese. Appunto per un nuovo Sud diverso da quello che i nostri emigrati conoscevano e sono stati costretti a lasciare, è un'Italia profondamente divisa nella quale l'emigrato, se è andato a Torino o a Milano, ha dovuto rinnegare le sue origini e si è dovuto vergognare in cuor suo di essere nato dall'altra parte della barricata. In tempi come questi di antipolitica, nei quali non ci sono più riferimenti ideologici, come pensa che si possa attivare una militanza così capillare, una rete così coesa di militanti? Si può creare, sa perché? Perché la gente francamente non ne può più di quella politica, che non è una politica, è una falsa politica, è il teatrino della politica, mi spiace doverlo dire, ma il Cavaliere che ha stigmatizzato sempre il teatrino della politica ha fondato e ha messo in campo il teatrino della politica, è stato lui a metterlo in campo, nel senso che, mi spiace doverlo dire, ha trasformato la politica in un teatrino. Io certamente non mi riconosco negli ultimi 15-20 anni della politica della Prima Repubblica, che aveva raggiunto poi un livello di degrado che non poteva portare che all'esplosione di quel sistema. Ricordo la politica degli anni 70, che era certamente meno bella e pulita della politica degli anni 50 e 60, ma ricordo che era tutta un'altra cosa, fatta di confronti, di dibattiti, di rispetto dell'avversario e di, soprattutto, capacità di ritrovarsi attorno al bene comune. Poi, non di contrapposizione fittizia su falsi valori, su falsi ideali. Oggi la gente credo che abbia bisogno di una politica vera, che è servizio, che è lotta, che è generosità, che è altruismo, che è risultati, che è rigore, che è impegno quotidiano. Della politica teatrino, quella che vediamo celebrata o proiettata sera per sera dai nostri schermi televisivi, credo che francamente non se ne possa più. Ecco perché la militanza può fare scoprire ai militanti, ma anche alle persone che con i militanti si ritrovano giorno per giorno, il vero senso e la vera nobiltà della politica, che peraltro non dimentichiamolo, la Chiesa definisce la forma più alta della carità.